Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Yes, Your Grace. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Nello scorso episodio abbiamo formato un po' di alleanze, difatti adesso abbiamo 600 uomini a nostra disposizione, ma dobbiamo averne almeno 1000 per affrontare la guerra che dovrebbe palesarsi più o meno tra 13 settimane. Quindi, vediamo che ci dice il piccione. Carole di Darwin, nei boschi occidentali vicino a Branca c'è qualcosa che potrebbe fare chiarezza sui vostri problemi. Un oggetto insolito potrebbe conturvi al peccatore. Siate veloce, Breck, cordialmente. Ok, dobbiamo andare dunque nei boschi occidentali a Branca. Va bene, sarà fatto. Questa lettera non ha un sigillo. Cosa ne pensi, Audrey? Chiunque abbia mandato questa lettera deve aver pagato profumatamente uno scriva. Deve essere importante, sarà meglio mandare un generale in quei boschi per vedere qual è il problema. Ho contrassegnato la posizione sulla mappa per voi, vostra grazia. Ok. Quindi, c'è stata data la posizione, ma noi non abbiamo il generale per questa settimana, quindi se ne parlerà alla prossima, mi sa. È un piacere conoscerla, vostra grazia. È le mie più sentite contoglianze per Thalys, anche se non mi andava molto a genio. Comunque, l'urs mi ha illustrato la vostra situazione. Credo di poter aiutare in cambio di qualcosa, ovviamente. Vedete, voi avete qualcosa che vorrei dare a mio figlio. Qualcuno, in realtà. Vorrei che vostra figlia Asalia lo sposasse. Credo che questo potrebbe rafforzare notevolmente le nostre relazioni per gli anni a venire. Per cominciare, vi metterei a disposizione nel mio esercito 300 soldati ben equipaggiati e addestrati, pronti a combattere contro la dovia, e insieme agli uomini anche quattro pezzi di oro e cinque unità di probbiste. Allora, che ne dite? Fatemi riflettere. Avrò bisogno di un po' di tempo per pensarci bene. Oh, ma certo, caro. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre. Ricorda solo che la dovia non aspetta a voi per prepararsi. È un po' stronza, eh? Cioè, ci ricorda pure il tallore che ci stanno arrivando addosso, il tallore d'Achille qua, il nostro putto deve... Cioè, non se fa, signora, non se fa. Vuole una sposa per il figlio. Vedremo, vedremo. Lui non c'è da info, quindi capiremo più da farsi. Vostra grazia, Seferic è morto. Il responsabile della sua fine è il Lord Jovan. Non mi pento di questa decisione. Neanche un po'. Perché? Cosa vi ha spinta ad agire in questo modo? Se... se l'è cercata. Freak era un bastardo violento. L'Ona, sua moglie, ha dovuto sopportare l'inferno. Il vostro rifiuto, il vostro scegliere, l'ammazzadraghi. L'ha fatta impazzire di rabbia. E si è messa a bere, e bere. Si è infuriato. Avevo la sensazione che avrebbe reagito in questo modo. Ero un maestro con la spada. Ma questo rendeva le cose peggiori quando andava fuori controllo. Ok. Non è cambiato praticamente nulla. Sarebbe successo anche se sceglievamo Seferic a postare l'ammazzadraghi. Sarebbe stato così contento che avrebbe bevuto. Avrebbe ammazzato comunque l'Ona. Avrebbe fatto del male, roba del genere. Quindi... Non cambia questa parte. Va bene, ok. Pensavo che risposta vaste, Seferic. Non voleva tonirvi alla Macausa a meno che non ci fosse stato lui. Fu lui ad addestrarmi. A volte era completamente ubriaco. E vedevo come trattava l'Ona. Un veterano. Ora non è altro che una stella sbiadita. Ma una volta era una vera leggenda. Non riusciva a sopportare di vedere quegli abusi nei suoi confronti. Ma era di rango più alto. Volevo che si unisse a voi. Perché non volevo fare nulla che potesse turbarlo. Non volevo che l'Ona soffrisse per la mia decisione. Nel caso non fosse d'accordo. Non avevo capito che comunque ci sarebbe stato qualcos'altro a farvi infuriare. Diventa sempre violento quando beveva. Lo sapevano tutti. Le guardie, i contadini. I nobili, i cavalieri. Già. Fiedrich picchiava l'Ona. E non la facevo uscire. Nessuno ha mai alzato un dito per aiutarla. Erano tutti troppo spaventati per fare qualcosa. Non potevo restare a guardare. Procedete. Uccidetemi. Se dovete. Ma sappiate che Fiedrich si meritava quella fine. Non mi risparmiate. Mi unirò... Se mi risparmiate mi unirò al vostro esercito. Vi aiuterò in prima linea con la mia forza di 120 uomini. Vi offrirò anche i miei picchieri per aiutarvi in battaglia. Possono affrontare qualsiasi cavalleria di cui possa essere dotata Radovia. Vi darò anche 5 pezzi d'oro. Non è cambiato nulla neanche sotto questo aspetto. Quindi lui in ogni caso si unisce a noi. E siccome direi che c'ha pienamente ragione. Ok se ha fatto giustizia da solo quale cazzo volete. Ma ha picchiato per anni la moglie quello. Quindi diciamo che... Per un lato ha fatto bene. Di conseguenza lo lasciamo libero. Anche perché signori... Partiamoci chiaro. Cioè servono uomini. È un giorno triste per il cavalierato. Ma capisco perché l'avete fatto Yovan. Le tue azioni sono perdonate. E servirete Darwin nell'imminente battaglia. Vi suggerisco solo di mantenere un po'... Un profilo basso per un po'. Per ogni eminenza. Grazie. Vostra grazia. Siamo a 734 uomini. Tanta roba. Io onestamente pensavo si fosse svolta diversamente il tutto. E che di conseguenza non saremmo riusciti ad ottenere i suoi 120 uomini. Ma meglio così a sto punto. Meglio così. Anzi l'altra scelta è peggio. Perché andavamo a perdere gli uomini del cavaliere. Di conseguenza ne avremmo avuti solo 120. Ci ha dato comunque anche i picchieri che poi ripetono più in là. Sono utilissimi. Vostra grazia. Volevo parlarvi delle mie patate scomparse. Qualcuno deve averle rubate. Penso di sapere chi sia. Mi hanno detto solo una richiesta per visita. E sembra che ora io abbia un problema molto più grande. Vengo dall'ondano e quando sono arrivato ero molto stanco. Io volevo riposarmi un po' e mi sono seduto su una di quelle belle sedie all'ingresso. So che non avrei dovuto farlo ma gli dei mi hanno già punito. Mi sono seduto su puntaspidi 20 a quanto pare. Ha squittito e sono saltato subito in piedi. Quando mi sono alzato il mio sedere era tutto ricoperto di punte. E non solo. Mi sono sentito subito male. Estremamente debole. Temo che la creatura sulla sedia mi abbia avvelenato. Che posso fare? Pugnale. Pugnale? Oh no. Sembra una faccenda molto seria. Non sono sicuro di sapere cosa fare. Penso di poter risolvere io. Mi chiamo Alena. Vostra grazia. So come preparare pozioni e posso occuparmi di anomalie magiche. Mi diretto anche nel guarire le ferite. Una strega? Sì, alcuni mi definiscono così. Anche se preferisco considerarmi semplicemente una donna erudita. Al vostro servizio. Una persona del genere ci farebbe sicuramente comodo per aiutare la nostra gente. Vostra grazia. Sarebbe una grande aggiunta al nostro gruppo di agenti. In poche parole, signori, è un agente. Un po' come il nostro generale. La possiamo mandare in mappa. Possiamo fargli risolvere delle questioni del popolo. Insomma, torna utilissima. Quindi assolutamente ce la prendiamo con noi. Quindi potete aiutare quest'uomo? Molto bene allora. Sei in grado di aiutare quest'uomo? Sì, penso di poter aiutare questa povera anima. Vieni. Ti preparo un momento per alleviare il gonfiore. Perfetto. Un'altra gente che si unisce alle nostre fila. È un onore, vostra grazia. Potrò anche aiutarvi in battaglia se avrete bisogno di me. Grazie Elena. Come abbiamo preparato il generale nello scorso episodio? Dovremmo preparare anche la strega per combattere durante la battaglia finale, diciamo. Se Dani non sarà contenta di sapere di pugnare, sarà meglio informarla. Vedrò se avete qualche libro utile nella sala del consiglio, vostra grazia. Ok. Se magari mi togli questi, vediamo cosa c'è stato scritto. Potrete vedere le spese relative alla strega nell'epiligo settimanale, vostra grazia. Perché anche la strega ovviamente c'è costo un po' come il generale. Possiamo anche non pagarla e non averla. Vediamo come siamo messi a oro, ovviamente. Possiamo semplicemente pagarla ogni volta che ne avremo bisogno. È fantastico. E abbiamo un altro generale. Quindi, volendo, noi possiamo... Vabbè, intanto andiamo avanti. Poi magari la mandiamo all'ultima da qualche parte. Vostra grazia. Pendel, il nostro villaggio è stato saccheggiato. Sono stati uomini vestiti di rosso e nero, recanti sui loro vessili. La testa di una bestia trafitta da una lancia. Sicuramente un esercito radoiano, vostra grazia. Ciò significa che si stanno avvicinando. O forse è semplicemente una provocazione? Una provocazione? C'è gente che viene uccisa, mutilata e ridotta in schievitù. E sarebbe solo una provocazione? Vostra grazia. Non sembrava un intero battaglione. Doveva esserci solo un piccolo condincente. Mandateci i vostri uomini. Possiamo reagire. È chiaro che si è sovraffatto dalle emozioni. Ma dobbiamo pensare al quadro generale. Se rispondiamo, non la prenderanno bene. E colpiranno con ancora più forza. E non vogliamo che la battaglia inizi prima del dovuto. Ma toglie loro e loro attacchi. Li incoraggerà a continuare. Vostra grazia. Dovete fare qualcosa. Non possiamo lasciare che costinguino le nostre terre in questo modo. Conquistino. Vostra grazia. Dovete fare qualcosa. Non possiamo lasciare che conquistino le nostre terre in questo modo. E il generale non ci abbiamo. Audrey ha ragione. Posso aiutare il tuo villaggio con delle probbiste? Non mi pare il caso. Audrey ha ragione. Non abbiamo il generale. Li avrei mandato il generale. La strega non va bene. Meglio presentare. Non voglio suscitare un vespaio. Aspettate pure quanto volete. Ma non permetterò che tocchino la mia vagna. Dirò ai ragazzi di preparare i forconi. Gliela faremo vedere noi a quei maledetti. Ce la pagheranno. Perderemo un villaggio. Molto probabilmente. Molto probabilmente. Ma... Evitiamo che c'è massacri. Non abbiamo ancora raggiunto il vostro obiettivo, no? Vostra grazia. Abbiamo sentito della battaglia imminente. È il momento perfetto per noi di guadagnarci qualche soldo. È un'opportunità per voi di ottenere dell'aiuto. Siamo mercenari. Un gruppo di 22 uomini esperti a vostra disposizione per soli 16 pezzi d'oro. Che ne dite? Sono 22 uomini per 16 pezzi d'oro. È un po' troppo. Quindi non questa volta. Mi dispiace. Non sono interessato alla vostra offerta. Bene. Torneremo tra due settimane. Forse per allora vedrai cambia d'idea. Ho preparato il nostro oro. Va bene. Di conseguenza... Ma quasi quasi potremmo andare a parlare con la strega prima. Vediamo se c'è sta. Dovrebbe trovarsi nella sala del consiglio. Tipo qua. Vediamo se c'ho ragione. Sì, si trova qua. Vostra grazia. Come posso aiutarvi? È tutto. Quindi no, non ci serve a nulla. Di conseguenza, mappa... Capanna nascosta. E mandiamo la strega ad indagare. Conferma. Strega inviato. Ok. Teoricamente dovevamo andare qui. Vediamo che... cosa ci viene riportato una volta che arriverà lì. Vostra grazia. Vostra grazia. subito è difficile che posso riuscire a seguire le tue istruzioni. Ecco perché sono bravi agenti. Nessuno sospetta di un porcospino. In quale altro modo avrebbe potuto aiutarmi? Ma qual è la missione? Sedani. Dai. Un porcospino? Che fa una missione? Sì, una missione sotto copertura. Dovevo esplorare la zona, recuperare le informazioni e tornare da me. In questo modo, se mi avesse aiutato, sarei stata debitrice verso di lui di una promessa come nella storia, padre. Eh, non farlo più, per favore. Anche perché non ne hai porcospini. Quindi ti prego, non andare a caccia agli altri porcospini. Ti è rimasto il pollo, per ora. Dai, su via. Per favore, non mandare più porcospini in missione. L'ultimo ha pugnalato un contadino. E ho dovuto occuparmene io. Ma ero così vicino a trasformarle in un principe. Ora l'ossuria non tornerà mai più. Ma suppongo che abbiate ragione. Perdonatemi, vostra grazia. Niente elegante e impavido come un gatto. Come un polverello. La prossima volta troverò un agente più feroce. Lo addestrerò io. Sarà il mio comando. Gli sforzi di pugnale non saranno stati vani. Ah, sedani. Mia testa di patate. Quindi, da qui non abbiamo nient'altro da fare. Possiamo anche uscire e andare nei giardini. Salve ragazze, tutto a posto? Sì, padre. Eh, Lady Nena è venuta a trovarmi. Ti ricordi di Lady Nena? Era il matrimonio di tua sorella. Sì, perché questa domanda? Beh, mi ha chiesto se ti piacerebbe sposare suo figlio. Ma prima di fare scenate sappi che non ho ancora dato alcuna risposta. Oh, capisco. Immagino che comunque non avrò gran voce in capitolo. Beh, non saprei. Cosa ne pensi? Non lo conosco nemmeno. Pensate che voglia sposare uno sconosciuto? C'è qualcuno che conosci e volresti sposare? No! Prima o poi dovremmo trovarti qualcuno. Sai come funziona? Lo so, è solo che non credo di essere ancora pronta. Nessuno è mai pronto per questo, ass. Ok. Quindi non abbiamo altre info. Grazie per avermi permesso di venire al castello, vostra grazia. Prego, prego. E di conseguenza adesso possiamo andare a parlare con nostra moglie che sicuramente ci saprà dare qualche consiglio, no? Tesoro? Che ne pensi di trovare un principe per Asalia? Lady Lane è venuta a farmi una proposta. Asalia? Ancora troppo giovane? Pensavo che non avremmo dovuto pensarci fino alla fine della battaglia. Lo so, non sapevo proprio cosa dirle. Ha offerto supporto in battaglia nel caso accettassimo. Abbiamo bisogno di tutta l'aiuto possibile. Ma non voglio ancora lasciare andare, Asalia. Lascerò a te questa decisione, cario. Caro, quindi ci ha dato carta bianca, fai quello che cazzo vuoi. Va bene, e... Non voglio dare via un'altra figlia. Il primo matrimonio è stato tremendo. Non voglio ripetere quest'errore. Prima o poi dovrà sposarsi. Lo so, non è giusto. Ma non voglio che si sposi con uno sconosciuto. E troveremo qualcuno di più appropriato dopo la battaglia, ne sono sicuro. Magari il re Radoiano che viene qua. Dammi lei. Perché quella piccola mi pare il caso. Almeno lei è un attimino più grande. Va bene, va bene. È un sollievo. È difficile immaginare di perdere due delle mie figlie in un solo anno. Non le perderai. Si stanno solo sposando. Lo so, lo so. Inventerò... E la informerò sulla mia decisione. Ok. E... A questo punto... Non abbiamo altro da fare, mi sa. Teoricamente. Ah, non possiamo chiamare qualcuno in realtà. Quindi, sì. Rientra qua nella camera da letto. E... Vai su Alleati. Vediamo chi possiamo invitare. Le di Lena. Magari più in là ci pensiamo ancora un po'. Ci stanno tante altre personaggi da invitare. Tipo... Bialit. Mascia. E Greco. Gli altri... Per il momento... Non sono più disponibili. Per un motivo o per un altro. Quindi... Ne mancano ancora tre. Invitiamo... Che ne so. Greco? Invitiamo Greco. Dai. Ah, a posto. E... Passiamo alla prossima settimana, signori. Ora. Stiamo perdendo oro? Mi sa di sì. Tasse 11 e 9. Perché comunque la strega ci costa parecchio. Però per il momento... Potremmo tenerla. 20 di provviste per la strega. Per averla nella battaglia. Le possiamo anche spendere. Non è un problema. Quindi... Direi che... Che c'è sta. Giostra e stalle. Mancano ancora 12 settimane. Per il momento abbiamo ancora due zone ad esplorare. Vediamo... Nella prossima settimana se abbiamo bisogno di sbloccare le stalle per esplorare altre zone. Facciamo le cose con calma. Ma signori. Siamo giunti. Alla settimana 18. È tornato il nostro generale. Vostra grazia. Ho aiutato il proprietario della taverna a sbarazzarsi dai ruffiani. Non so cosa stesse succedendo ma quando siamo arrivati c'era un vero disastro. Sono felice che tu sia riuscito a porvi rimedio. Giustamente non stiamo più guadagnando dalla taverna. Almeno... Per il momento. Di conseguenza abbiamo... Dei soldi in meno. Questo è un vero problema. Vostra grazia la capanna di legno nella foresta sembrava una specie di cucina per preparare delle spezie. Era abbandonata. Abbiamo perquisito il posto e abbiamo trovato questa fiara nascosta sotto il pavimento. Avete trovato altro? No a vostra grazia. La capanna era vuota d'eccezione di un bel po' di rosmarino essiccato. Grazie. E... Sì però fammi leggere che cazzo. Sembra che ci sia una sostanza all'interno. Se è stata questa da venenare talis sarà meglio fare attenzione. Una sorta di fiara. Come posso esservi utile? Procedimento per le indagini? No. Va bene. Capiremo più in là da farsi. Mi avete mandato un piccione? Sì. Qua noi mandiamo piccioni a destra e a sinistra senza problemi. Dai. Su via. Andate piccioni. Volate via. Benvenuto nel nostro castello. Presumo che abbiate sentito la nostra imminente battaglia contro Radovia. Certo che sì. Altrimenti non sarei qui. No veramente siete qui semplicemente perché vi ho mandato il piccione. Sennò... E dai eh. Voglio aiutarvi. Ecco cosa vi propongo. Io mi vanto della mia conoscenza dell'arte. La mia collezione di minti è la più grande del regno. Possiedo dipinti degli artisti più prestigiosi. Silisk Van Ghet, Mowoski, Pisak. Credo vi siate fatto un'idea. Ho sentito dire che voi possediete un dipinto di grande valore. Sarebbe perfetto per la mia collezione. La cicogna di Silisk Van Ghet. Io... Non dite ancora niente. Non avete sentito cosa vi propongo. Posso offrirvi 80 uomini ben addestrati. E tre unità di provviste. Wow, quel dipinto deve significare molto per voi. Infatti è così. Deve sparire da questo castello. Voglio dire, starà molto meglio nella mia galleria. Insieme agli altri. Immagino che il dipinto sia esposto in qualche stanza. Quindi vi darò il tempo di toglierlo. Questo, ovviamente, se accetterete il mio accordo. Vorrei portarlo via con me personalmente. Quindi avvertitemi quando siete pronto. Eh, guardi. Ci pensiamo, eh? Ci pensiamo. Magari vale di più sto dipinto? È un dipinto che mi piace molto. Fa una bella figura in camera da letto. Rifletterò sulla vostra offerta. Certo, pensateci pure. Mandatemi un piccione quanto sarete pronti a discutere. Ma già che ci siamo, mi dà tipo delle informazioni, che ne so, su una lettera. Dato un occhiato ai disegni su questa lettera, è greco. Potreste dirmi qualcosa a proposito? Queste piante sembrano alberi di sorbo. Sono alberi che garantiscono protezione dalle streghe malvagie e dalle loro maledizioni. Molti regni usano questi alberi per costruire delle culle per i bambini. Quindi probabilmente questa lettera è stata scritta da un lord che desidera protezione contro le streghe e maledizioni. Grazie, greco. Questa è un'informazione molto utile. E poi ho trovato anche questa fiala. Mi sa dire qualcosa? Se magari togliamo questo. L'ho trovata nei pressi di branca. Può dirmi qualcosa riguardo? È una fiala di vetro usata. Non so cos'altro potrei dire, vostra grazia. E denti di animale? Per caso? Ho trovato questo dente nella cantina dei mini, sapete dirmi qualcosa riguardo? Avete delle bestie nei sotterrani, Erik? Fareste meglio ad ingaggiare un cacciatore che se ne occupi. Un cacciatore? Sarebbe un'ottima idea, effettivamente. Penso che sia tutto. Grazie per la vostra visita. Arrivederci, vostra grazia. Beh, in un modo o nell'altro ci è tornato utile, no? Vostra grazia, il generale, ha contribuito a cacciare via i le noni dalla mia taverna. Il suo aiuto è stato fondamentale. Gli uomini e le donne si sono trasferiti in un'altra locanda in fondo al villaggio. Ma ho perso gran parte dei miei clienti, quindi ci vorrà un po' di tempo prima che io possa ricominciare a realizzare profitti. Va bene. Ti auguro buona fortuna nella ricostruzione della tua attività. E per favore, non far accadere più niente del genere. Naturalmente, vostra grazia. Ok, di conseguenza, come detto, almeno per un po' non ci pagherà. Vostra grazia? Noi non sappiamo come sia successo. La creatura, la strega della foresta, è scappata, vostra grazia. Qualcuno l'ha liberata. Idiota. Qualche sciocco è stato abbastanza coraggioso per cercare la saggezza eterna. Sapevamo tutti che la saggezza eterna era solo una bufala. Sapevamo che non era altro che una vecchia megera. Un ragazzino si è innamorato del suo racconto. E ora? Bubushka, è là fuori, nella foresta. Bubushka? Vostra grazia. Non conoscete Bubushka? Lei è, beh, una strega. Una vecchia megera. Più vecchia di chiunque altro. È in giro da sempre. È bassa, è curva. E le sue gambossute sostengono in matapene i lembi della sua vecchia pelle rugosa. È un naso lungo. E adunco, i pedi delle sue narici sono così lunghi e che le cadono fino al seno. Non dire, che cazzo di... di... di rasociata, scusate. Gli indosso un cappotto di pelle di serpente e una sciarpa intorno alla testa. Con minuscube le ossa attaccate con cura a ogni filamento. Mentre cammina, le sue ossa sbattono una contro l'altra, provocando una specie di ricchiettivo. Le ossa pese o le ossa del corpo che gli sprecco? Lo sapete com'è? È un pochettino... Vive nella foresta, anche se nessuno l'avete da molti anni. È leggente Nara che attirasse i bambini nella foresta per mangiarli. Ma altri racconti sostengono che possa donare la saggezza eterna a chi abbia il coraggio di guardarla negli occhi. E che cosa potrei fare? Non saprei vostra grazia. Ha scritto queste parole sulle nostre porte del villaggio. Voltate le spalle alla foresta, nella fronte verso di me. Lascia anche delle vecchie zampe di pollo sui nostri usci. Abbiamo paura che venga a rapire i nostri figli. Ogni notte qualcuno sente un ticchiettio. Potrebbe stare preparando un incantesimo di qualche tipo. Vabbè, gli inviamo il generale, signori. Gli inviamo il generale. Peccato che non li possiamo mettere un attimino da parte e ascoltare gli altri per capire la situazione. Però l'altra volta gli ho dato dell'oro per assumere qualcuno in una run precedente. E hanno fatto tutti una brutta fine. Di conseguenza proviamo ad inviare il generale. Magari gli dà un potere perché la guarda in faccia. Non saprei. Il mio generale può passare un paio di notti a sorvegliare il vostro villaggio. Forse riuscirà a trovarla. Grazie mille, vostra grazia. Spero che il vostro generale sia abbastanza coraggioso da affrontarla. È coraggiosissimo il nostro generale. E ci dà anche della felicità, quindi va bene così. Vostra grazia. Sempre più persone si riscono per pregare. Non possiamo più stare tutti in una stalla. Volevamo costruire un nuovo santuario. Ma abbiamo bisogno di aiuto per evocare degli spiriti sagri. Otterremo il favore degli dèi. I campi saranno più fertili. I mostri saranno tenuti a bada dagli spiriti maligni. Eviteranno il nostro villaggio. Vorremmo che ci aiutasse facendo venire la strega di corte. E con un po' di oro per pagare i materiali. Il popolo ve ne sarebbe grato per sempre. Ah, praticamente gli possiamo dare l'oro. La strega? Credo. O più oro? E la strega forse? Per costruire un templio? Anche no. Non posso aiutarvi, mi dispiace. Diamo che ora dovete fare a meno del vostro nuovo santuario. Oh, poveri noi. Ora possiamo solo pregare perché gli dèi ci perdonino. E non ci puniscano troppo duramente. C'è. A me pare il caso. E che cos'è? Allora. Usciamo nuovamente alla nostra sala del trono. Vediamo che cosa possiamo fare in giro per la mappa. E possiamo andare solamente nella nostra camera da letto. Sembrerebbe che abbiamo qualcosa da fare qui. Probabilmente per il quadro. Quello della cicogna. E guardi, ho un indizio sulle indagini. Ho trovato degli indizi che potrebbero condurci alla persona che c'è dietro alla morte di Talis. Che cosa hai scoperto? Una fiala. E' arrivata una lettera che suggeriva la presenza di attività sospette nei pressi di Branca. Ho chiesto a un generale di dare un'occhiata e ha trovato questa fiala. La sostanza all'interno potrebbe essere quella che avvelenato Talis. I suoi ingredienti potrebbero condurci all'assassino. Potresti portare questa fiala a una strega di corte per illuminarci a riguardo. E' stata la strega a portarmi sta cazzo di fiala perché minchia non l'ha esaminata. Scusatemi. Che adesso gliela devo portare io. Tieni ma scusami l'esami sta fiala. E' una buona idea. Credo di averla vista nella sala del consiglio. E' tutto. Questo è tutto ciò che ho trovato. Ci vediamo più tardi. Per quanto riguarda questo abbiamo un sacco di cicogne qui a Darwin. Sono uccelli molto aggraziati. No, non lo so. Mi piace molto come sta. Evitiamo. Evitiamo. Non ne vale la pena secondo me. Quindi sarà del consiglio perché dobbiamo andare a parlare con la strega. E gli diamo eventualmente la fiala che lei ci ha dato a noi. Come posso aiutarvi? Guardi ho questa fiala che mi ha portato lei. Abbiamo trovato questa fiala. Hai trovato questa fiala? Scusa, grandissima BIP. Mi potresti fare capire che cazzo c'è sta all'interno? Abbiamo trovato questa fiala. Potrebbe essere collegata a ciò che è accaduto a Thalys. Sembra che ci siano dei residui all'interno. Puoi controllare se la sostanza corrisponde al veneno trovato nel vino di Thalys. Potrebbe non essere facile ma... Proverò a determinare gli ingredienti utilizzati in entrambi i campioni. Ma ci vorrà del tempo? Ok, due settimane. Fatemi prendere un po'. Fatemi prendere un po'. Ho letto male. Vabbè, vabbè. Vieni a parlarmi nella sala del trono quando scopri qualcosa. Naturalmente vostra grazia. Ed è tutto. Ora devo andare. Che gli spiriti vi assistano. Ok. Quindi... Per il momento... Credo che... Non ci sia altro da fare. Di conseguenza... Passiamo... Ah no, possiamo ancora invitare un lord. Meno male me lo ricordo ogni volta. Perché se no io cliccherò e skipperei malissimo. E... Invitiamo Masha, signori. Invitiamo Masha, dai. E poi ci rimane solamente via lit. Quindi bene così. E... Come detto, passiamo alla settimana 19. Ma... Per questo episodio direi che possa anche essere tutto. Mi raccomando, con i like sono fondamentali. Iscrivetevi se non siete iscritti. Insomma, le solite robe. E mi raccomando di seguirmi sia su Discord ma anche su Twitch per le live. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.